san macario san macario il grande visse tra il 300 e il 390 nato nell'alto egitto da giovani si ritirò in una capanna solitaria dove unì la preghiera assidua all'allevamento di pecore ed alla fabbricazione di cesti per sfuggire all'attenzione delle gente si trasferì nel deserto di scete dove fu ordinato sacerdote qui passò i rimanenti 60 anni della sua vita il suo compito principale era celebrare l'eucaristia per la colonia monastica del deserto che contava migliaia di persone per un certo tempo macario fu esiliato per aver sostenuto la fede cattolica contro gli ariani commento san macario come l'eresi arca ario erano evoluti perché credevano rispettivamente nella fede cattolica e nella cosiddetta eresia ariana no macario ed ario erano evoluti perché attraverso una fede avevano intuito la divinità sarebbero stati più evoluti se avessero intuito la divinità senza nessuna fede come accade in alcuni atei